Emiliano Barsini, date il luogo, ci sono per quanto riguarda il tuo nuovo match, combatterai il 2 aprile a Santa Maniella, per cui qui vicino tutti potranno venire a vederti. Sì, pare che ci siamo quasi riusciti a organizzare questa manifestazione, questa riunione pugilato, titolo europeo che già sono tre volte che salta, causa Covid e tutta la situazione, sperando che per il 2 aprile il Covid ha rallentato questa aggressione che ha e i positivi sono di meno e ci danno via libera per organizzare e per riempire il palazzetto. Come dicevi, già più volte è stato rinviato questo incontro, quindi com'è gestire dal punto di vista mentale la preparazione atletica, anche riflettendo sul fatto che forse, sperando, facendo le corna, potrebbe saltare nuovamente? Dura, perché sono sei mesi che mi sto preparando, trattire e molla, e niente, la Ciacchi si esentono, i dolori ci sono, ringrazio anche i fisioterapisti che mi stanno aiutando, sia Stefano Iacomelli, sia Dottor Fati, sia Carlo che mi sono vicino e spero che questa volta sia la loro volta buona, ripartendo un'altra volta da capo con un'altra preparazione e che il 2 aprile ci sia sto match e almeno vediamo se si può andare avanti oppure attaccare i guantoni. Sì, perché nel frattempo sono passati sei mesi, era estate, era giugno, eravamo alla Marina per vedere il match contro Giamoà, quindi tanta attesa, purtroppo spesso accade questo, però adesso c'è questo periodo, due mesi e mezzo di lavoro in vista della sfida con Ucchiaga. Sì, e devo ringraziare il sindaco di Dei di Santa Marinella con la sua giunta, con l'assessore dello sport che hanno accolto la mia richiesta di farmi fare questo titolo l'Unione Europea lì a Santa Marinella. Sono contentissimo perché è vicino casa e come si sta facendolo a casa, pure perché era il nostro sindaco prima, Pietro.